È stata presentata la filiera didattica e formativa triennale magistrale dell'ingegneria civile, nata dalla collaborazione avviata tra l'Università del Sagno e l'Università del Molise, mediante un'apposita convenzione finalizzata ad offrire a territori affini una maggiore qualificazione del processo formativo universitario di settore, attraverso l'accorpamento di due corsi di laurea, quello attivo a Benevento presso l'Università del Sagno di Ingegneria Civile, classe delle lauree triennali L7, e quello attivo di Ingegneria Idile presso l'Università del Molise, classe delle lauree triennali L23. Ne abbiamo parlato con il professor Giovanni Fabrocino, responsabile operativo per l'Università del Molise, e la professoressa Maria Rosaria Pecce, responsabile per l'Università del Sagno, e poi la testimonianza di un gruppo di studenti di ingegneria dell'Università degli Studi del Molise. Il professor Fabrocino, referente per l'accordo con l'Università del Sagno, ma soprattutto presidente del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile, ci spiegherà come cambia l'ingegneria nel Molise, perché innanzitutto ci sarà questo trasferimento da Termoli qui a Campobasso. Sì, in effetti l'anno prossimo è in previsione un piccolo trasloco nell'ambito dell'area dell'ingegneria, nel senso che in occasione dell'accordo con l'Università del Sagno, tutte le attività didattiche del nuovo corso di laurea triennale di Ingegneria Civile, che parte quest'anno anche in relazione alle iscrizioni. Quindi gli iscritti del prossimo anno saranno iscritti al corso interateneo di Ingegneria Civile e potranno fare un'opzione nell'ambito del percorso edile per continuare poi nel secondo e terzo anno il loro percorso a Campobasso. Questo vuol dire che il corso di laurea di Ingegneria Civile interateneo avrà sede a Benevento e Campobasso. Nello stesso tempo anche le attività didattiche del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile verrà sviluppato e verrà erogato a Campobasso. Questo anche per la richiesta degli studenti che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi e che ha consentito di trasferire sia gli studenti che nel prossimo anno saranno iscritti al secondo anno di Ingegneria Magistrale Civile, sia i nuovi iscritti che vorranno aderire al nostro percorso didattico. Quindi questo vuol dire in qualche modo da un lato consolidare nell'area del turismo la sede di Termone e dall'altra parte innestare a Campobasso, nel capoluogo, invece quelle che sono le attività dell'ingegneria civile. traendo vantaggio delle sinergie di tipo territoriale che si possono sviluppare e che ci aspettiamo siano proficue con l'Università del Sannio. Una collaborazione con l'Università del Sannio che è solo un grosso arricchimento, anche una grossa opportunità per i futuri ingegneri Unimol. Sì, credo assolutamente di sì, perché in realtà lo slogan che credo valga la pena in qualche modo lanciare è quello dell'opportunità di raddoppiare i vantaggi e i servizi nell'ambito dell'offerta formativa in ingegneria civile, perché riesco ad immaginare in prospettiva i nostri laureati o studenti di ingegneria civile triennale che si troveranno a casa in due Atenei, perché di fatto avranno la possibilità di utilizzare le risorse sia informatiche sia infrastrutturali presso l'Unisannio, come gli studenti residenti, ma la stessa cosa accaderà da noi. Quindi vuol dire trarre vantaggio della collocazione nel complesso di vazzieri per gli studenti di ingegneria significa trarre vantaggio di tutti i servizi connessi, le aule multimediali, la biblioteca e in realtà da studenti Unimol. Quindi il raddoppio dei vantaggi è legato alle opportunità offerte dalla moltiplicazione delle offerte formative, delle possibilità di scegliere tra esami differenti, un'offerta variegata e complementare, dall'altra parte un raddoppio dei servizi in relazione alla presenza di due sedi operative con probabilmente un piccolo costo, che è quello dello spostamento. Però noi dal punto di vista dell'Università del Molise, che per tradizione in qualche modo è del Molise, quindi rappresentiamo una rete sulla nostra regione e questo è uno dei vantaggi di avere una regione piccola. Quindi abbiamo sicuramente una possibilità di collegamenti non semplicissimi ma assolutamente sostenibili perché abbiamo tempi certi di percorrenza e quindi sicuramente i vantaggi che i ragazzi potranno avere saranno sicuramente inferiori dal mio punto di vista agli svantaggi. La professoressa Pecce dell'Università del Sagno è la controparte di un accordo che dal prossimo anno vedrà l'unione, ed è per il Molise la prima esperienza, l'unione delle forze tra le due università, Unimo e l'Università del Sagno, per quel che riguarda l'offerta formativa di ingegneria. Ci spiega i dettagli tecnici dell'accordo? Sì, allora noi abbiamo costruito un accordo in cui l'ingegneria civile che era presente nel Molise già da un po' di tempo con un corso di laurea in Edile e l'ingegneria civile che è presente dal 99, dal 2000 a Benevento, quindi all'Università del Sagno, hanno fatto una pianificazione per unire le risorse che sono abbastanza differenziate e complementari e le docenti presenti nelle due sedi. Quindi ci sono docenti dello stesso settore in entrambe le sedi che faranno da unione e che hanno fatto da iniziativa di partenza, però ci sono un gran numero di docenti che invece sono complementari. Allora l'iniziativa è stata concepita con un corso di laurea unico che si chiama Ingegneria Civile, che ha un anno che è uguale per tutti gli studenti ma che può permettersi, dato l'ampliamento del bacino dei docenti, due percorsi diversi già dal secondo anno. I due percorsi sono diversi pur avendo delle altre piccole sovrapposizioni, nel senso che alcuni esami saranno ancora comuni per il secondo e terzo anno, però si differenziano fondamentalmente perché uno è indirizzato all'edilizia e nella parte edilizia che si svolgerà al secondo e terzo anno presso l'Università del Molise ci sono tutte le competenze già presenti qui da tempo nel settore dell'architettura e della pianificazione territoriale che sono indispensabili per un approccio serio dell'ingegneria civile nel settore del recupero edilizio, della pianificazione territoriale, della progettazione, anche con la componente architettonica. Invece l'ingegneria civile di Benevento continua solo sul secondo percorso a mantenere la sua tradizione più orientato alle strutture, alle infrastrutture e ai trasporti, quindi un civile più generale non orientato all'edilizia. Quindi gli studenti avranno un'opportunità di scegliere al primo anno, che è comune perché l'ingegneria è più o meno comune per tutti al primo anno, anche le altre ingegnerie non civili, di scegliere il loro percorso. Questo li porterà quindi in una sede o nell'altra per il secondo e il terzo anno, però siccome gli studenti possono anche sostenere alcuni esami a scelta, e gli esami a scelta sono totalmente liberi, ci sarà un arricchimento degli esami a scelta che si possono fare, perché lo studente indifferentemente potrà scegliere da entrambi i percorsi gli esami a scelta, quindi un enorme bacino di esami a scelta disponibili. Inoltre faremo in modo che la laurea triennale acquisita con l'intero Ateneo sia valida senza debito formativo per entrambi gli accessi alle due magistrali su una sede e su un'altra. Quindi una sinergia completa che fa pensare allo studente che si tratti di un'unica università, solo che questa unica università che è a sua disposizione è disposta su un territorio più ampio di 50 km. Quindi avrà un'università che si estende per 50 km, che è una cosa bella. Assolutamente, ma lei in conferenza stampa ha tenuto a sottolineare come lo studente, che poi in proiezione anche di quello che sarà il mondo del lavoro, deve anche uscire da quelli che sono i confini regionali e questo può essere un arricchimento importante. Sì, io credo molto nel fatto che la crescita, questa è una mia opinione personale, che la crescita di uno studente debba essere culturale e non solo formativa. Cioè l'università non deve creare un tecnico preparato in una materia, deve creare una persona, una professionalità che è completa della sua personalità e della crescita. Oggi forse i ragazzi non arrivano alla maturità veramente a 18 anni, forse non ci arrivano neanche molto dopo. Comunque noi possiamo contribuire alla loro crescita. Noi non facciamo altro che parlare di internazionalizzazione, ne mandiamo all'estero con l'Erasmus. Cominciamo dal primo anno a far capire allo studente che lui ha un paese a disposizione, che non esistono i confini regionali, che per inseguire un sogno e una preparazione può spostarsi. Deve parlare con un'altra cultura, deve parlare con persone che hanno un altro punto di vista, deve aprire le sue prospettive, non deve fermarsi a un eventuale problema di spostamento, di tempi, anzi è un arricchimento, un modo per parlare fra di loro. Quindi io ci credo molto nel fatto che non sia affatto un difetto, che l'università sia sparsa sul territorio. Siamo con un gruppo di studenti laureati, tra l'altro, e prossimi alla laurea della Facoltà di Ingegneria Unimol, che sono venuti a fare da testimonial, tra virgolette, alla presentazione del nuovo corso di laurea interateneo, che dà inizio a questa collaborazione con l'Università del Sagno. Loro, tra l'altro, hanno partecipato ad un tirocinio, nell'ambito del progetto con il MIGBAC per la verifica sismica dei musei italiani, che fa capo in Unimol al Laboratorio Strega, di cui è responsabile il professor Fabrocino, tra l'altro, referente per questo accordo con il Sagno. A parte la particolare esperienza, voglio prima crederti cosa ne pensi di questo. Tu sei laureata, quindi giustamente, per te il mondo del lavoro è più vicino, però cosa pensi che possa offrire ai tuoi colleghi che ancora si vogliono iscrivere ad Unimol questo accordo con un'altra università, tra l'altro anche molto vicina geograficamente e culturalmente? Sicuramente, come dicevano anche i professori, il rettore, è un'opportunità che tutti i giovani possono cogliere e devono cogliere di apertura tra le università. Quindi si può avere a che fare con altra gente, con altre persone, con altre mentalità ed è importante questo per la crescita culturale e personale di ognuno, insomma di uno studente di ingegneria che deve averla questa apertura. Nel mondo del lavoro, adesso il tuo prossimo passo, quanto pensi ti sia stato utile lavorare sul campo in quel progetto di cui parlavamo con il MIBAC? Sicuramente è stato fondamentale e importantissimo, ha dato un contributo molto ampio, è stato un modo di mettere in pratica le cose studiate e imparate durante il percorso accademico ed è stato un modo per approcciarsi al mondo del lavoro perché abbiamo avuto modo di collaborare con altri ragazzi, con altre situazioni, con altri ambienti e quindi abbiamo avuto modo di imbatterci nelle dinamiche professionali praticamente, quindi è stato davvero importante poter partecipare a questo progetto. Per te? Noi abbiamo lavorato allo stesso progetto, quindi nello stesso gruppo e appunto questa collaborazione, il confronto che è sempre sinonimo di crescita, confronto che non solo abbiamo potuto vedere all'interno del nostro gruppo ma appunto anche all'esterno con altri atenei, con il MIBAC perché grazie al professor Fabrocino abbiamo potuto partecipare alla consegna del progetto, quindi già tuffarci nel mondo del lavoro. Sicuramente un'esperienza positiva, invece come vedete voi il trasferimento della sede, ma anche tu sei vicino alla laurea. Secondo me è un'ottima opportunità anche perché a Termoli non c'era proprio la possibilità anche per le aule e i laboratori e quindi hanno puntato più a uno sviluppo un polo turistico e ovviamente qui a Campobasso ci sarà la possibilità appunto di avere laboratori e lavorare insieme meglio diciamo. Infine il mondo del lavoro vicino anche per te che sei laureato e hai sperimentato una collaborazione anche con un altro ateneo, vale a dire la tua tesi se non ricordo male con Federico II, quindi è possibile ed è anche fattiva la collaborazione tra due atenei nel percorso di studi? Porto appunto la testimonianza diretta di una collaborazione tra ateneo che è fattibilissima e è un'esperienza ovviamente di crescita importante e rendersi conto delle conoscenze di un confronto tra professionisti, docenti, ricercatori e comunque vivere altre vite universitarie che comunque sono un bagaglio culturale e sociale da portare sempre. Grazie. Grazie a tutti.